In attesa dell'audizione di domani in Regione, la Sindaca di Battipaglia ha convocato in via d'urgenza una riunione operativa con i sindaci interessati questa mattina presso il Comune di Battipaglia. I primi cittadini della Piana del Sele domani dovranno recarsi davanti alla Commissione Ambiente della Regione Campania, retta dal dottor Gennaro Oliviero, per discutere del ciclo integrato dei rifiuti. Assieme alla sindaca francese sono stati chiamati all'appello i sindaci di Alta Villa Silentina, Albanella, Bellizzi, Campania, Capaccio Pestum, Eboli, Monte Corvino Pugliano, Ponte Cagnano Faiano e Serre. Si tratta di una prima risposta del presidente Vincenzo De Luca alla grande manifestazione di protesta che ha visto scendere in piazza oltre 10.000 persone lo scorso 23 novembre. Io quello che dico sempre e che ho detto in questi giorni è come mai, chi ha deciso questo? Perché è come se uno non va al di là del proprio naso, cioè non ha idea di quello che può essere lo sviluppo del territorio. Un sindaco ha il dovere di capire questo, di stare vicino alla comunità e di difendere a denti stretti il proprio territorio. E parlo della Piana del Sele, parlo di una coltivazione di alta qualità, parlo di quarta gamma, parlo di mozzarella di bufala, parlo soprattutto di un prodotto che praticamente ci rende famosi a livello internazionale. Noi non possiamo massacrare questo territorio creando nella Piana del Sele una sorta di aria che praticamente è l'immondeziaio dell'intera provincia di Salerno. Ed è questo quello che secondo me bisogna capire dall'alto. Noi non siamo contro i siti di compostaggio, assolutamente. Io sono una che sostiene, l'avevo detto nel 2015, qualcuno ha voluto giocare sul titolo di quell'articolo. Sono pienamente convinta di quello che ho detto. Noi abbiamo bisogno di un sito di compostaggio che raccolga l'umido dell'intera Piana del Sele, che sia solo l'umido dell'intera Piana del Sele. Per cui non solo, ma quello che chiediamo è un consorzio dei comuni che afferiscono al sito per il controllo della gestione del sito. Cioè quindi noi dobbiamo essere artefici e controlli del nostro territorio. E questo è quello che chiediamo. Ma quello che poi dice anche la comunità europea, perché la comunità europea dice che bisogna sversare nei siti prossimi e non fare chilometri. Allora quando si sente che tra Ebole e Battipaio dovrebbero arrivare circa 10.000 tonnellate di umido all'anno, beh, allora sta accendendo da dove deve sversare se solo la provincia di Salerno ne produce tanto e se nella provincia di Salerno dovrebbero venire sei siti di compostaggio? Cioè questa domanda ce la chiediamo. Allora un sito c'è, c'è quello di Ebole. Noi chiediamo di metterlo a norma, magari di ampliarlo per gestire, per favorire, per ricevere l'umido di tutta la Piana del Sele. Di ampliarlo basterebbero 25.000 tonnellate, 30.000, ma che sia unico, uno, perché è assurdo avere due siti di compostaggio vicini l'uno con l'altro. Quindi chiediamo questo, chiediamo appunto, ripeto, che ci sia o si crei un consorzio dei comuni che lo gestiscono e che siano solo i comuni della Piana del Sele a sversare in quel sito. Si stanno avvicinando le posizioni di Ebole e Battipaglia? Ma io avesso che il sindaco, l'ho sentito lì in consiglio comunale, ha fatto un po' retromarcia su quello, ma anche perché la popolazione di Ebole si è svegliata, forse un po' grazie anche a questo movimento che è sorto a Battipaglia e al Tam Tam, grazie all'azione svolta dei consiglieri comunali di opposizione, Cardiello, Conte, ma anche Petrone, diversi che hanno preso posizioni e quindi si sono creati anche lì dei comitati spontanei e quindi ha fatto un po' marcio indietro su quell'ennesimo centro di rifiuti, stabilimento che doveva trattare dei rifiuti speciali. Io spero che si vada tutto in questo senso, cioè noi bisogna salvaguardare il territorio e penso che questo l'abbia capito ora finalmente, almeno da quello che ha detto il sindaco Cariello, che salvaguardare la Piana del Sere vuol dire salvaguardare non solo la salute dei cittadini, ma vuol dire salvaguardare l'economia che ha retto in questa area. Il comune di Ponte Cagnano, stando qui stamattina, sta dimostrando di essere vicino a Battipaglia e quindi di verificare, diciamo, in un ciclo di rifiuti urbani che abbia una linea contigua per tutti i comuni che sono nelle vicinanze di Battipaglia e che abbracciano tutta la Piana del Sere. Sicuramente faremo il nostro dovere andando alla Regione e portando le nostre dimostranze dei nostri cittadini come tutte le dimostranze dei cittadini dei paesi e dei mitrafi. Quindi stamattina c'è questa riunione che sicuramente da questa riunione uscirà qualche cosa di utile per tutta la collettività appunto della zona interessata a questa problematica annosa che si sta vedendo attraversare in questo momento. Le nostre eccellenze sono eccellenze particolari che non vanno secondo me messe nel calderone di tante altre. Io dico che la nostra agricoltura, la nostra mozzarella, tutto ciò che è il nostro turismo è di eccellenza. Dobbiamo tutti quanti fare un'azione programmatica anche nel futuro a farla diventare sempre ottima e non farla andare in quel calderone dove è che il resto del mondo, l'Italia, pensi che sia come le altre, inquinate oppure un poco diversa. Grazie.